Ciao, sono Paola, sono titolare di questa attività commerciale che è un ristorante e pizzeria, si chiama Le Fate, è sito in Canove, nel centro della piazza, quindi nel centro proprio di Canove, fa parte della provincia di Cuneo, esattamente a Govone. È una pizzeria, fa anche servizio da asporto, siamo aperti sia a pranzo che a cena, siamo specializzati in pizzeria, questo è il secondo locale che apriamo, direi sempre con successo, siamo specializzati in pizze, dicevo, perché mio marito è il pizzaiolo, ci tiene particolarmente che il suo prodotto sia valorizzato, io gestisco il discorso della sale e il discorso della cucina, oltre alla pizza che è il nostro fiore all'occhiello, sicuramente abbiamo il fritto misto di pesce che è molto apprezzato, gli antipasti, tra cui ci sono anche antipasti piemontesi, come può essere la carne cruda, il peperoni con la bagna cauda e quant'altro. Ci piace accontentare i nostri clienti, vederli uscire contenti e sereni per il servizio che gli abbiamo dato. Selezioniamo i nostri camerieri con particolare attenzione perché devono sicuramente essere educati, accettare quello che il cliente riferisce, sia in positivo che in negativo, perché devono migliorarsi di volta in volta e se ci sono dei problemi devono assolutamente riportarlo a noi per poter favorire il miglioramento di questo problema. Siamo aperti dal martedì alla domenica, sia a pranzo che a cena. Durante il pranzo facciamo prezzo laboratorio a 10 euro, comprensivo di primo, secondo, bevande e caffè. I nostri orari sono da mezzogiorno alle due e mezza, mentre alla sera dalle sette a mezzanotte circa. Vi aspettiamo per potervi presentare le nostre pizze e poter stare un po' con voi.